Fra i due litiganti, nessuno gode. Conteso tra la Global Resorts dell'italiano Andrea Bonomi e il fondo cinese Fosun International, Club Med bissa gli ultimi risultati e chiude l'esercizio fiscale 2013-2014 con una perdita netta di 9 milioni di euro. Nell'aumento dei clienti registrato l'ultimo anno, i vertici del tour operator vedono comunque un incoraggiante indicatore di un ritorno alla crescita nel 2015. Lunedì 1 dicembre, intanto, la scadenza fissata da Club Med per valutare le offerte concorrenti.